10 marzo 2018 Milano, oggi scendiamo in campo per te. Ciao capitano. Firmato Mi 9. Mauro Icardi Porter con esse il ricordo di Davide Astori domani sera durante il posticipo di campionato tra la sua Inter e il Napoli. Lo porterà il braccio, infilando quella fascia che lo distingue da tutti i suoi compagni, da capitano a capitano, un simbolo che avvicinava Maurito a Davide. Un segnale di quanto il difensore della Fiorentina sia ancora nella mente sua e di tutti i suoi colleghi. Inter, Spalletti, Astori. Esempio di Lealt, lascia un segno infinito, le parole del mister, lo stesso Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa che anticipa il big match dello stadio Giuseppe Meazza. Ha voluto indicare quanto i rapporti tra atleti siano ben più stretti di quanto appaia i tifosi, esaltando il valore dell'uomo Astori, lui non era solo il capitano della Fiorentina ma del calcio. Lascia in eredito un esempio importante di come la Lealt renda sottile il confine tra essere avversario e compagno di squadra. Astori era salutato sempre da tutti, mi ricorder sempre come i calciatori sono venuti nel mio ufficio a dirmi quello che era successo, una cosa che ti lascia il segno, Saru un segno infinito.